Le 100.000 lire erano mie ed erano convertibili in oro ed erano italiane, erano della banca d'Italia, il valore era italiano. Quando ho portato le 100.000 lire e mi hanno dato il controvalore in euro, in quel momento l'Italia ha perso tutta la proprietà della sua... Aspetta, no, di più. Allora, prima eravamo possessori di x miliardi di lire, no? Vabbè, noi mettiamo nel dettaglio troppo perché eravamo possessori. Dopo siamo diventati debitori. Allora, però, per correttezza, scusate, ma il debito a un certo punto va in paresi costo. Un debito è basato su un rapporto che poi ha una scadenza. Se io l'euro, come ho detto, sotto il baderazzo, rimango sempre per tutta la reddita del segretore fino a che muoio? Sì, no, non è solo debito, non è solo debito. Perché il rapporto giuridico è basato su debito. Ma qui non c'è niente di giuridico, non c'è niente di giusto, non c'è niente di legale. Non c'è un debito perché nel momento in cui nessuno mi ottica la situazione, non è un debito. Non c'è nessuno che mi può venire a dire dammi i 50 euro che coagniamo in dieci anni fa. Per cui non è un debito. Un tanto, un tanto, un tanto, un tanto... Ma se non è mai il pericolo, poi c'è tanto che possono obbligare con la tassazione. La tassazione mi permette, mi permette, mi permette, mi permette di vivere. C'è stato che io sono... Ovviamente non posso condividere chi ha portato i capitali a destra e poi lei, facendosi fare lo sconto, pagando il 5% soltanto di casa, per carità di vivere. Però questo governo ha fatto vedere chiaramente che se ti muole trovi i soldi, te li toghi come quando muole. Perché ha ritassato quei soldi del 3%, 3,5%. Pertanto loro possono cambiarti. Loro possono toghi come quando ti ricordo. Un'altra cosa, un'altra cosa, lei mette i soldi sotto il materasso. Io le dimostro per lo stato che le pot toghi. Chi aveva a casa... Io sono un collezionista per passione, condiziono denaro, meta, banconote e tutto quanto. Non ho mai acquistato l'ultima serie delle 100 mila lire perché non lo sapevo come finiva. Le ultime lire non le ho acquistate. Bene, i colleghi collezionisti che avevano invece collezionato le 100, le 50 e le 10 mila lire dell'ultimo conio, quello che è stato poi fino al 2002, adesso questi soldi se li sbabbano qua. Perché? Perché lo Stato, con una legge retroattiva, ha detto che la legge definiva che fino al 2012 era possibile cambiare tutto il denaro circolare e il livre, andando alla panchetta e cambiando. Dalla finanziaria questa fatta di novembre, fatta dal governo Monti, retroattivamento. Quindi tutto quello, dal momento esatto in cui è andata in vigore la legge, con tra l'altro il voto di fiducia, non era più possibile cambiare quei soldi. Ma è stato fatto con un voto di fiducia e la gente non è stata perdita. Soltanto per questo motivo la maggior parte degli italiani in possessione di circa 2 miliardi di euro in valuta, è stata defraudata di 2 miliardi di euro. Adesso, se lei ha... E che le sembrano a fare? Dentro la portafoglia, dentro un libro, dei valori in lire, se le cose sbattano in fronte. Perché non servono più a niente, ma neanche come valore di conio a livello numismatico. Non ci fa più niente. Guarda, io uso ebay per fare gli acquisti di valuta. Bene, se lei va su ebay e va a valutare, va a vedere lo storico di quanto valevano 100 mila lire di Bernini, dell'ultimo conio, prima di quella legge. Dopo quella legge è svalutato dell'80%. Perché adesso c'è un circolante in valori, in lire, dell'ultimo conio che fa spaventare. Quindi loro possono gestire il denaro come e quando vogliono. Specialmente con lei. Le dico semplicemente, le può tenere sotto il marrasco quello che vuole. Nei paesi di solito africani si fa così. Come? Si cambia il circolante. La mattina si sveglia il rete del Marocco, cambia il circolante in giro, non dice niente a nessuno. Se lei è solo il risultato di madrasco, il giorno dopo vai in buio. Sì, però ci può essere anche un discorso, ci può essere un discorso differente. Io posso, con i soldi che mi possesso a prestare dei beni, che hanno un valore, che è convertibile... Quello si era. E infatti gli italiani sono tutti proprietari di casa. Sono soldi qua alla fine. E infatti gli italiani sono tutti proprietari di casa. Perché l'associazione popolare degli italiani si dice dovete comprarne casa. Perché il mattone è l'unico ricordo del terreno. Con quel discorso... Lo dicevano. Lo dicevano. Adesso l'altro. La Polona ha detto che è un cattivo investimento il mattone. Però è ancora così. Il discorso che faceva prima, che diceva che il delitto del Trostante, dei soldi e il controvalore del lavoro, lo scuolo per... Non è vero. Chi è di voi che è dipendente pubblico? Chiedo scusa. Io lo faccio. Come pagano i stipendi lo Stato ai dipendenti pubblici? In genere. Vabbè, poi le tasse racconte, d'accordo. Ma in genere, pagate, si dice sempre, no? Io ricordo quando ero ragazzino, mio padre mi diceva che lo Stato mette in botte perché devi pagare gli stipendi e mi impiegate. Il primo padre non ha impiegato il ministero. E mette in botte e questa imposta è data su un debito. Il suo lavoro, lei è, che ne so, dirigente del ministero, quindi ha studiato pagandosi gli studi tantissimi anni, ha fatto corsi su corsi, esami su esami, poi si fa un mazzo così, dalla mattina alla sera, il suo stipendio è pagato con un debito. Il suo stipendio invece di generare un valore già nel debito. Perché lo Stato le paga gli stipendi e mettendo dei botte. Questa è la realtà delle cose. Perché lo Stato non ha solidarietà monetaria. Perché non ha solidarietà monetaria. La solidarietà è fatta. Quindi no, lo Stato è salavante. Non è la valutazione. No, scusate, lo Stato dovrebbe pagare gli stipendi pubblici con le tasse, abbiamo detto. Cioè, se lo Stato avrebbe un bilancio, dovrebbe tante entrate e tante uscite. In realtà, però, questo non succede. Quindi che succede? E succede che devono mettere i botte. Perché sono, e ci abbiamo detto, perché come in una famiglia, se non ci sono soldi, mi faccio prestare dei soldi e pago il discorso che dobbiamo fare. Pagano solo la pensione, pagano altre cose. Pre, punto. E poi va per pagare le tasse. Allora, un attimo. Parliamo della cambia della città. Parliamo della cambia della città. Finalmente. Vabbè, queste cose qui sono essenziali. Allora, il problema, un'altra piccola ricerca, il problema per cui noi oggi ci troviamo qui è che noi, di Alta Mediterranea, da decenni portiamo avanti uno studio di una cosa che dovrebbe essere divulgata nelle scuole, dovrebbe essere un corso di formazione nelle scuole, perché noi, nella vita, è un gioco e dovremmo sapere le regole del gioco. Noi siamo andati allo sbaraglio dei nostri governanti a giocare una partita di cui non sappiamo le regole. Ecco perché poi la gente si trova in difficoltà, succedono i casini, possono succedere crack in morsa, vengono nefraudati con i fondi tossici, eccetera. Cioè, tutte queste cose qua. Perché? Perché la gente non sa assolutamente di che gioco gioca. Nelle regole essenziali del gioco. È chiaro. Un'emozione che è stato, non so se avete sentito, due giorni fa, questo dirigente di Goldman Sachs che ha detto, io non me la sento più di rubinare i miei clienti. Dicchichi delle menzogne perché la mia banca ovviamente vuole fare, assolutamente. Quanto dirigente, se non ricordo, ma uno deve vivere i miei clienti. Sui dirigenti, no, non sono tutto. Non sono, anche succede che non si sanno la regola del gioco, su qualsiasi cosa. Ma guardate, io, io, non sono, io ho modo di parlare. Non avremo troppo a... Con molti direttori di banca e onestamente devo dire che questi direttori di banca vengono le voti ma non sanno neanche a fondo questi problemi. Cioè non sanno neanche, sanno che c'è la faccia. Non è una regola base. Però la regola base sfugge a tutti, sfugge a tutti, sfugge a un direttore di banca. Ma ormai c'è il caos totale. Ma questo è voluto. È voluto, non è casuale. È voluto. È voluto perché se la gente sapesse le regole del gioco, giocherebbe in maniera più consola e certi giochi sporchi non si potrebbero fare.